Musica ci vanno tutti i giorni però eh scusi, devono scendere a Portovenere scendere a Portovenere poi prendere un altro mezzo io vado a Almaria e a Portovenere prima a fare Almaria lei è uno di Marina che non lo ricordo è lì allo steppente della Marina eh eh 42 anni di Marina non credo bene l'ho riconosciuta mi fa si ci riferisco dove è la stazione di treno? quindi ci prenderà alla stazione di treno? no, non è bene non è bene? no non è bene alla stazione cosa vuole sapere? cosa vuole sapere? no perchè vuole per il questo qui è una città ma lei vuole andare a Portovenere? no 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 la ferrovia il treno il treno il treno? il treno la ferrovia la ferrovia la ferrovia ci si può andare anche in treno ma come facciamo a capirci come? è un problema qua treno? cinque treni ho un maggiore con migliore c'è 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 per prendere il treno dove voglio andare al paese sul? nooo per prendere il treno col treno andare alle 5 terre Ah, va bene, va bene. Però come ci si spiega? Signora, ci sono anche 5 tere. Ci sono anche in patel. Ma il pass è un pass, ci sono 5 tere, ci sono. Ci sono un pass, ci sono 5 tere. Un pass? Un pass? Un pass? Un pass? Un pass. E un pass? Un pass. Un pass. Un pass into Porto Venere. Precisamente. Ok. Potremmo portNoess a Porto Venere, ma as分鐘ato? L'anno suona passare all'afferente. Ma con il pass? Cosa prende? Cosa prende? Con il treno Con il batteno qua Via mare, via mare Qua, c'è un batteno qua Come si va a dire per ora, non fa di leva Un batteno We came from boat, we were on the cruise So, we wanna go on the bus The bus Cosa prende? Cosa prende? We're told to take the bus 3 Take the bus 3 Take the bus 3 to the train station Uhhhh Bus 3 Bus 3 Bus 3 Bus 3 Bus 3 Sono in classico lui o due volte nemmeno. Quando si vede le stagioni di stagione, si riuscite per cercare il passaggio, e poi si vede a fare il treno. No, ha detto che ci sono le scale di d'Arsiaio, che potrebbero vedere suonare e ci sono. Il signore Battaglia è un autista, ma si passa alla ruota. Sì, a fare il treno. E i ticchetti. C'è la scuola. Grazie. 3 1 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 5 5 5 5 5 5 5 6 8 9 9 10 10 10 10 10 11 11 12 12 12 13 14 16 12 15 15 16